Nelle ultime settimane si è acceso un dibattito intorno ad alcune parole del Papa sul rapporto fra proprietà privata, destinazione universale dei beni e diritto naturale. Se ne sono sentite di tutti i colori e in particolare Papa Francesco è stato accusato da alcuni ed esaltato da altri perché avrebbe fatto delle affermazioni comunisteggianti. Credo valga la pena inquadrare il problema per evitare pressapochismi o peggio per evitare forzature ideologiche. Il diritto alla proprietà privata è un punto imprescindibile della dottrina sociale della Chiesa come garanzia di libertà e indipendenza della famiglia e della persona nei confronti dello Stato. Chi ha vissuto in Europa l'epoca delle ideologie successiva alla rivoluzione francese e ha dovuto subire un regime di socialismo reale come avvenuto nei paesi dell'Europa orientale. Oppure la presenza dei partiti comunisti affiliati all'internazionale guidata da Mosca in Europa occidentale sa quanto sia stata difficile la lotta per difendere la libertà della proprietà e dei corpi intermedi dall'invadenza di uno Stato sempre più succube dell'ideologia marxista che si riassumeva nel progetto abolizione della proprietà privata. Tuttavia la proprietà privata va considerata sempre nel contesto del bene comune di una nazione e in particolare alla luce della destinazione universale dei beni come insegna per esempio il compendio della dottrina sociale della Chiesa. Così i cristiani hanno incarnato questi due principi nella storia avendo sempre presente come proprietà privata e destinazione universale dei beni andassero coniugati con un'attenzione privilegiata ai deboli, agli orfani e alle vedove indicati nella Sacra Scrittura, ai poveri, insomma a quelle categorie umane verso le quali il Signore nei Vangeli rivolge uno sguardo di predilezione costante. Storicamente la proprietà privata comincia ad assumere una connotazione diversa dopo la rivoluzione francese e soprattutto in seguito alla soppressione del sistema corporativo e alla rivoluzione industriale, che creano masse di operai senza alcuna forma di protezione legale in balia di capitalisti senza scrupoli e debiti allo sfruttamento senza freni. La proprietà così diventa, nella cosiddetta società borghese, un qualcosa di strettamente legato all'individuo. Diminuiscono gli spazi comuni e le proprietà comunitarie, mentre aumenta la pressione dovuta alla lotta di classe provocata dalla diffusione del socialismo e del comunismo, in particolare dopo il 1848 quando viene pubblicato il manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels. Dopo la prima guerra mondiale, 1914-1918, in seguito alla rivoluzione d'ottobre in Russia nel 1917 e in Italia in seguito alla nascita del Partito Comunista a Livorno cento anni fa, nel 1921, la lotta lanciata dai partiti comunisti in Europa per conquistare il potere aumenta ulteriormente. Oggi, dopo la fine dell'epoca delle ideologie, con la caduta del muro di Berlino del 1989, l'idea di proprietà è ancora cambiata. Essa non viene più attaccata come diritto da una ideologia che la vuole abolire espressamente, come era con il marxismo, ma viene messa in crisi, la proprietà, da una mentalità statalista e socialisteggiante che permane nel corpo sociale come effetto di una lunga predicazione ideologica, quella appunto successiva al diffondersi dell'ideologia marxista in Europa. E a farne le spese oggi sono le categorie meno protette, i piccoli proprietari, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i negozianti, vessati da un'imposizione fiscale esagerata, almeno in Italia, da una legislazione estremamente burocratica che toglie tempo e soldi al contribuente e dall'emergere, nel clima della globalizzazione, di proprietà cosiddette multinazionali, sempre più grandi, sempre più ricche e influenti, sempre più anonime e globalizzate e sempre meno territoriali, cioè sempre meno a contatto con le persone reali. Sono sorte così proprietà immense, con pil superiori spesso ai singoli stati, in contrapposizione quasi una specie di nuova lotta di classe alle piccole proprietà e agli esercizi commerciali modesti, piccoli, ma presenti sul territorio, in modo capillare. Servirebbe una politica lungimirante, capace di costruire un futuro caratterizzato dalla massima diffusione della proprietà e non dalla concentrazione del potere in poche mani. Da parte nostra, almeno cerchiamo di dire come e dove stanno andando le cose. Al contrario di quello che sta accadendo, la dottrina sociale della Chiesa ha sempre insegnato che proprietà e destinazione universale dei beni dovessero stare insieme e insieme contribuire al bene comune dei popoli. La destinazione universale dei beni, scrive il compendio della dottrina sociale della Chiesa al numero 172, è un diritto naturale, iscritto nella natura dell'uomo e non un diritto solo positivo legato alla contingenza storica. Inoltre, tale diritto è originario, diceva Pio XII nel radiomessaggio nel cinquantesimo della Re Romanovaro. Sempre il compendio, al numero 177, ricorda che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto il diritto alla proprietà privata come assoluto ed intoccabile. A contrario, essa l'ha sempre inteso nel più vasto contesto del comune diritto di tutti a usare i beni dell'intera della creazione. Il diritto della proprietà privata, scrive Giovanni Paolo II nella Laborium Exercens, come subordinato al diritto dell'uso comune alla destinazione universale dei beni. Papa Francesco, il primo dicembre del 2020, ha detto proprio questo, cito le sue parole. Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario derivante dal diritto che hanno tutti, nato dalla destinazione universale dei beni creati. Non c'è giustizia sociale che possa cementarsi sull'iniquità che comporti la concentrazione della ricchezza. Chi volesse attribuire a queste parole un'intenzione contraria a quanto insegnato nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa semplicemente sbaglia. Buona settimana a tutti.